Presentata questa mattina nel chiostro di San Domenico a Cosenza, la prima edizione del Senior Calabria Expo. L'iniziativa si occupa della divulgazione medico-scientifica e della sensibilizzazione sociale sui temi della terza età, della famiglia e del rispetto per la vita e per la salute. L'evento, in programma alla città dei ragazzi dal 24 al 26 ottobre, è promosso ed organizzato dall'associazione Volare a Santo Stefano di Rende, in collaborazione con Federanziani Calabria, il Comune di Cosenza e l'Ordine Nazionale dei Biologi. La rassegna Senior Calabria Expo, inedita per il Sud Italia, prevede un articolato programma con momenti di intrattenimento, ludico-culturali, laboratori del gusto, ma soprattutto spazi di riflessione e approfondimento sui problemi relativi ai processi biologici dell'invecchiamento e della qualità della vita in età avanzata. Abbiamo dei numeri molto interessanti, dei dati veramente confortanti sulla partecipazione a questa manifestazione che accende i riflettori sul mondo dell'invecchiamento attivo. Sarà una kermess bellissima perché è piena di eventi sia di carattere scientifico, sanitario, ma anche di carattere culturale e di svago. La manifestazione richiamerà a Cosenza gli iscritti dei 130 centri anziani di tutta la Calabria, i loro familiari e quanti vorranno con la loro presenza sottolineare la vicinanza a un mondo, quello della terza età, meritevole della massima attenzione. Durante la manifestazione, inoltre, sarà celebrata la festa dei nonni. L'anziano di oggi non è l'anziano di 60 anni fa, quindi ha altre esigenze. Le persone adulte sono portate al mantenimento, a mantenersi, a fare attività fisica, a svolgere anche attività culturali, attività diverse da come magari erano i nostri nonni che erano legati alle attività contadine. Noi speriamo che le persone, i cittadini, le famiglie vengano a vedere questa idea nuova proprio per capire che cosa la nostra regione, dal punto di vista delle eccellenze, può offrire a loro.